L.A. Famiglia Reale solleverà l'attacco di Harry contro di loro, secondo un importante esperto, che ha affermato che il principe William e il resto della monarchia vogliono apparire più grandi del libro. La famiglia reale si rifiuterà di contrastare direttamente gli attacchi del principe Harry, secondo un esperto reale. Il principe William e Charles vogliono apparire più grandi del libro ed elevarsi al di sopra di esso, secondo l'autrice storica reale di R. Tessa Dunlop. Ciò avviene dopo che sono emersi dettagli sull'accordo per il libro a sorpresa di Harry da 14,6 milioni di sterline con Penguin, Random House, la notizia del libro di memorie, che dovrebbe essere pubblicato alla fine del 2022, ha suscitato un putiferio. La prospettiva di un'altra serie di rivelazioni potenzialmente imbarazzanti che emergono è probabilmente vista con una certa trepidazione a Buckingham Palace. L'editore del diario del Daily Mail, Richard Eden, ha dichiarato a Palace Confidential di MailPlus. Ho sentito persone dire che saranno punite. Che non riceveranno inviti alle celebrazioni del Giubileo di Platino, o che il battesimo desiderato a Windsor non accadrà. Signore Eden ha continuato. Ma da tutto quello che ho sentito, è esattamente il contrario. La famiglia reale deve cercare di coinvolgerli il più possibile. Quegli inviti non verranno fermati. Sarà il contrario. Cercheranno di contattarli e assicurarsi che questo libro non sia così dannoso come potrebbe. Il dottor Dunlop ha aggiunto. Li fa sembrare più grandi del libro. Si elevano al di sopra di esso e possono farlo perché sono la monarchia. L'educa del Sussex ha annunciato che condividerà gli alti e bassi della sua vita da reale nella sua autobiografia. Il libro di memorie sarà pubblicato durante il Giubileo di Platino della regina il prossimo anno, che segna i 70 anni del monarca sul trono. La collaboratrice reale Victoria Murphy ha anticipato grandi rivelazioni nel libro. In una dichiarazione che descrive il libro, Harry ha detto. Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato ma come l'uomo che sono diventato.